Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano vivere un momento di svolta nella loro relazione. Dopo una proposta da favola nel novembre 2022, il matrimonio è stato rimandato a causa di problemi logistici non legati alla solidità della loro unione. La showgirl argentina, durante la pianificazione delle nozze dopo una lunga vacanza in Argentina, ha aperto il cuore sui motivi dei ritardi. La possibile slittamento del matrimonio a giugno, originato da ritardi nelle consegne e questioni logistiche, ha alimentato il dibattito sullo stato della loro relazione. Cecilia Rodriguez, tuttavia, ha sottolineato la robustezza del loro legame. Nel frattempo, il desiderio di diventare madre è emerso durante un'intima sessione di domande e risposte con i suoi follower. Cecilia ha confessato di aver sempre sognato di essere una giovane mamma, ma ora è aperta a lasciare che il destino decida il momento giusto dopo il matrimonio. La confessione della Rodriguez ha suscitato curiosità e dibattito sulle dinamiche della sua vita personale. Sarà il matrimonio rimandato un segnale di crisi o solo una piccola deviazione nei piani? Il desiderio di maternità si trasformerà presto in una lieta notizia? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.